Partirà domani mattina il rifornimento straordinario con autobotti e rastrellieri a Chieti e Chietiscalo per far fronte alla carenza idrica in città. Questo l'esito della riunione tecnica che si è tenuta questa mattina in comune con il sindaco di Chieti Diego Ferrara, l'assessore all'ambiente e transizione ecologica Chiara Zappalorto, il geometra Emidio Di Nardo dell'ACA, Marco Rosati, per la protezione civile. In pratica abbiamo pianificato, oltre al rifornimento dei palazzi e degli muniti di autoclavi che già era in essere, abbiamo pianificato la sosta di due autobotti, una per Chieti Alta nel parcheggio del terminal dei bus in Viale Gran Sasso, l'altro per la parte bassa della città che sarà localizzata nel capannone prospicente l'area operativa di Formula Ambiente in via Aterno 181. Lì in orari prestabiliti i cittadini necessitanti di acqua potranno andare per appunto approvvigionarsi e ci sarà la protezione civile a salvaguardare le norme anti-covid e chiaramente anche l'ordine pubblico. Vogliamo fare un appello all'uso consapevole dell'acqua, quindi evitare gli sprechi quanto più possibile, sapendo che noi stiamo mettendo in campo insieme all'ACA tutte le misure possibili e immaginabili per provare a tamponare questa emergenza e sapendo che oggi affrontiamo l'emergenza e domani insieme chiederemo un tavolo tecnico a cui porteremo delle proposte operative per provare a capire se nei prossimi mesi si riescono a costruire appunto percorsi tali a che questo tipo di emergenza non si ripeta più.